Benvenuto o bentornato sul mio canale in questo video faremo un semplice esercizio che ti aiuterà a comprendere meglio le tue reazioni di rabbia e di nervoso durante le giornate. Andremo a prendere consapevolezza di come si comporta l'ego e di come spesso non siano necessarie queste emozioni negative per il nostro corpo e per la nostra mente. Se non l'hai ancora fatto, sdraiati o siediti. Mettiti comodo in un luogo dove sai che non verrai disturbato per i prossimi minuti. Quando ti senti pronto e completamente a tuo agio, lentamente inizia a chiudere gli occhi e a rallentare il tuo respiro sempre di più. Il tuo respiro diventa sempre più pesante, più lento e più tranquillo. i tuoi muscoli diventano pesanti e immobili. C'è solo il tuo respiro in questo momento. Non avere fretta di rilassarti. Forse hai aperto questo video perché ti senti frustrato o arrabbiato con te stesso o con qualcuno che conosci. Qualcuno che hai incontrato casualmente nella tua giornata. Forse sei semplicemente curioso di conoscere meglio queste emozioni di rabbia e di nervoso. Forse non c'è un motivo e avevi solamente voglia di meditare in pace. Bene, sappi che l'esercizio che andremo a fare è adatto per qualsiasi di queste motivazioni. Non dovrei far altro che ascoltarmi e con grande tranquillità proverò a spiegarti tutto quanto. Continua a respirare lentamente. Rimani concentrato solo sul respiro e sulla mia voce. Il tuo corpo si rilassa e ora non ci devi più pensare. Prendi consapevolezza assieme a me di quello che ti andrò a dire prossimamente. L'ego vuole talmente attirare l'attenzione su di sé da pensare che ogni comportamento che vede nelle altre persone si è rivolto personalmente a lui, che sia un comportamento positivo o negativo, poco importa. Quel che interessa l'ego è essere al centro dell'attenzione. Gli basta anche un piccolo motivo per reagire, per difendersi, per gonfiarsi o elogiarsi. Sicuramente ti è capitato di vedere un'altra persona arrabbiata per questioni personali e casualmente vederla sfogarsi su di te. Spesso ci difendiamo e controattacchiamo, senza avere un apparente motivo. Semplicemente crediamo sia giusto rispondere alla rabbia o alle critiche di qualcuno. Al contrario, quando vediamo qualcuno farci dei complimenti, ci sentiamo importanti e in un modo o nell'altro facciamo sempre qualcosa per essere un po' di più al centro del mondo, al centro dell'attenzione. E non è importante se siano applausi o dolore, l'importante è che l'ego, e quindi noi, se siamo sotto il controllo dell'ego, è essere al centro dell'attenzione e ricevere attenzioni. Molto spesso le persone che si arrabbiano con noi lo fanno perché non riescono a gestire il loro nervoso, la loro rabbia, perché non riescono a comprenderla, non riescono ad essere consapevoli del momento in cui nasce questa emozione dentro di loro. O magari si comportano in quel modo perché hanno visto fare lo stesso atteggiamento dai loro genitori. E come ben sai, l'essere umano è abituato a copiare e a ripetere in modo tale da imparare. l'essere umano è un animale come tutti gli altri e anche tu, io e tutte le altre persone abbiamo dei comportamenti simili agli animali. se ad esempio ci sembra che una persona ci stia giudicando, devi sapere che in realtà quella persona sta solo giudicando se stesso. l'errore che noi facciamo, ed è un errore che facciamo anche tutti i giorni, è prendere quel giudizio, quelle critiche sul personale e quindi reagiamo e ci difendiamo. oppure se non sappiamo cosa fare, ci comportiamo come una vittima, come qualcuno che stia subendo qualcosa, qualcosa che ci fa stare molto male in quel momento. E così, in tutte le situazioni in cui nascono dentro le persone queste emozioni negative molto potenti, come la rabbia o il nervoso. Se queste persone sfogano la loro emozione, inconsapevolmente, su qualcun altro, inizia la famosa e interminabile partita a ping pong. Ognuno deve dire qualcosa, ognuno deve infliggere dolore maggiore all'altra persona. Entrambi devono fare di tutto per recitare la parte migliore. Vittima o carnefice, ormai poco importa, l'importante è che il nostro ego si senta al centro dell'attenzione. Ed è per questo motivo che la non-reazione è la forma più potente per liberarti e spegnere queste emozioni nel corpo delle altre persone. Ti sei mai chiesto quanto riesci a resistere e a non cadere in tentazione di reagire quando qualcuno ti critica o quando qualcuno ti giudica? Solamente per inserire nella mente dell'altra persona un concetto, inserirgli qualche parola e far vedere agli altri che hai ragione tu e che lui si sta sbagliando. Oppure fare di tutto per far sì che un'altra persona veda le cose diversamente, come vuoi ti sei mai chiesto quanto sei capace di rimanere fermo, immobile, come se vedessi la scena da fuori, come se vedessi che a litigare fossero altre persone e tu stessi solamente passando da quelle parti, spettatore di quel che accade senza reagire. Puoi allenarti con questo esercizio e se inizierai a farlo comincerai ad essere consapevole, molto più consapevole delle tue emozioni e delle tue reazioni e inizierai a notare quando sia necessario una tua reazione o quando non sia completamente necessaria, quando non ci sarà bisogno di dire qualcosa. cosa? Se continuerai a fare questo esercizio sarai capace di rimanere consapevole e di capire che l'altra persona ha solamente in corso una brutta e potente emozione dentro di sé e che non è tuo compito esserne partecipe o alimentarla. comprenderai le cose che prima ti infastidivano e che ora sono solamente un'emozione negativa delle persone che ti circondano, non una tua emozione negativa ma una loro e l'emozione negativa delle altre persone durerà molto meno se tu non farai nulla per alimentarla. Queste persone magari ancora non comprendono e ancora non sanno controllare le proprie reazioni, perché spesso non sono del tutto consapevoli. Quello che tu puoi fare per aiutarle e per insegnare a loro ad essere più consapevoli è non alimentare il loro non essere consapevole di tutto ciò che è in corso dentro di loro e non stare al gioco della loro rabbia. Fai un ultimo grande respiro e prendi consapevolezza di ciò che hai appreso, di ciò che hai imparato. fai un ultimo respiro e senti come dentro di te questi concetti ora ti appaiano più chiari, come tutto abbia un senso ora e come spesso nel passato alcune tue reazioni non siano state poi effettivamente così necessarie come credevi al tempo. Puoi aprire gli occhi. Questa piccola meditazione e presa di consapevolezza è terminata. Ti ringrazio di cuore per l'ascolto. A presto. A presto.